Noto conduttore radiofonico presenta la prima edizione del festival. Miei cari amici vicini e lontani, buonasera. Dal Salone delle feste del Casino di Sanremo trasmettiamo la prima serata del festival della canzone italiana. Su ha anche la conduzione delle tre successive, fino all'avvento della televisione, quando viene scartato perché poco fotogenico. Chi ha vinto la prima edizione? Fu una donna, Nilla Pizzi, a vincere l'edizione del 1951 con la canzone Grazie dei Fiori. La prima donna a condurre? Loretta Goggi, prima donna nella storia del festival a condurre nel 1986 la Kermes. In 73 anni di festival le donne hanno condotto però, solo quattro volte, oltre alla Goggi, anche Raffaella Carrà, 2001, Simona Ventura, 2004 e Antonella Clerici, 2010. Nella gara degli ascolti, Sanremo è stato battuto da altre trasmissioni TV soltanto due volte, nel 2004 dal Grande Fratello e nel 2008 dai Cesaroni.